Ciao Michi! Ciao Geo! Allora sei contento? Eh sì, sono contento sì. Bella gente, nuova aria che si respira, aria di produttività. Sì, ecco appunto, perché abbiamo cambiato studio, location, perché? Beh, un po' il clima, la latitudine, la longitudine, poi non c'è il videocitofono, ecco, qui non c'è il videocitofono, quindi io passo, parlo con te e non c'è il videocitofono. Non c'è? No. Non c'è alcun videocitofono. Vabbè, allora, ok, quindi sei pronto, preparato, possiamo andare a lavorare? Prontissimo, perché oggi in studio si comincia a registrare i lanci per il sesto estivo di Rai Go, il sesto estivo, non mi gattoni, eh? Non ci credo, sei preparato? Allora ti fa bene il nuovo studio, andiamo. Sì, dove vai? Torna qui, torna qui subito, dai, veloce, titi, 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 dove stai andando a piedi? Non puoi andare a piedi nello studio, dai, dove vai? Non lo so, prendo un elicottero? Ma no, dai, che elicottero? L'aereo? Ma che aereo? Dai, sì, seria, aereo, elicottero, dai, subito. Poi da l'occhio, una barca? Ecco, quasi, allora, vedi che le cose lo sai? Perché mi prendi in giro se le cose tu le sale? Stavo scherzando. Se le cose le sai, sale, ecco, non proprio una barca, un barchino, un barchino per andare allo studio, un barchino. Certo, un barchino per andare allo studio. Certo, perché lo studio è pieno, no, di acqua, c'è il mare nello studio e noi abbiamo un barchino. Ignorante, ignorante, tu sei ignorante. Se tu avessi delle orecchiette come le mie, orecchiette dotate di padiglioni auricolari, avresti sentito? Per fortuna, per fortuna io non ho le tue orecchiette piene di cerume che non sentono mai bene. Avresti sentito il direttore dire che era il gulp, c'è un dino e bisogna fare attenzione. Allora io che cosa ho fatto? Vedi quel camion? Salve, sì, venite qui. Su quel camion c'è una barca, anzi un barchino con il quale io salgo attraverso l'ondino. Ecco, venite qua, scaricate pure, sì, ecco, da questa parte il barchino per l'ondino. Sì, Michele, a parte che la barca è enorme, comunque voglio così, guardi un'informazione di servizio, che l'ondino è un cartone animato di ben onda surre gulp. Praticamente è un pesciolino, capito? Un cartone animato, un pesciolino che stia dentro l'acqua, non. Un attimo, solo un secondo, la barca ha tutto. È come un cartone animato. Un cartone animato, un barchino, sì. Adesso la barca, il barchino enorme. Ah, guarda, io non c'entro niente, cavate la tua, eh, guarda. Scusi, no. Un secondo.